Nessun nuovo reato ma arrivano comunque pene più severe al pari di quelle previste per lo stalking, un numero di emergenza e un'app. E soprattutto si evidenzia lo stato di emarginizzazione in cui finiscono per ritrovarsi le vittime. L'aula della Camera ha approvato in prima lettura con il sì della maggioranza la legge contro il bullismo che di fatto riprende e completa il provvedimento varato nella scorsa legislatura contro il cyberbullismo. Il testo, che adesso passa al Senato, si muove su un doppio binario, da una parte quello di rinasprimento sanzionatorio, dall'altro quello della rieducazione e della prevenzione. Sì, è una legge che punta molto sulla prevenzione più che sulla repressione, responsabilizzando molto i dirigenti scolastici, gli organi preposti alla gestione del disagio minorile. In tutto otto articoli, un provvedimento corposo particolarmente incisivo quando si parla di atti che coinvolgono dei minorenni, al punto che tra le ipotesi più radicali c'è anche quella dell'affidamento a una casa famiglia. Si tratta di una misura estrema, solo per i casi più gravi, in cui il percorso di recupero non abbia dato risultati utili. Che la tutela dei minori deve passare attraverso la prevenzione e soprattutto la rieducazione. Solo in questo modo si riuscirà a fare degli interventi a lungo termine che produrranno poi degli effetti veramente importanti. Chiunque, dentro e fuori la scuola, può segnalare i casi di bullismo al procuratore che gira la segnalazione al Tribunale dei Minori. Critica però l'opposizione, chi chiedeva maggiori fondi a disposizione per la rieducazione dei minorenni. Ci aspettavamo condivisione, condivisione che su un tema così delicato sarebbe stata necessaria. E questo è un tema che non ci deve dividere politicamente. La cosa grave soprattutto è che questa legge è una legge che non stanzia fondi e soprattutto non è previsto un obbligo di difesa tecnica per le vittime del bullismo.